Il lunedì è stato il giorno dell'addio con Alberto Villa, il martedì, quello dell'arrivo in panchina di Roberto Chiuzzi è ricaduta sul 44enne di Cetraro la scelta della Virtus Franca Villa per dare una sterzata alla stagione. La sconfitta sul campo del Monterosi, la sesta nelle ultime sette giornate nel girone C di Serie C, ha portato la dirigenza guidata dal patron Antonio Magri a cambiare. Un addio doloroso quello con Villa che si era fatto benvolere da tutto lo spogliatoio e che a Francavilla Fontana godeva di un ottimo credito legato al passato da calciatore. I 12 punti conquistati nelle prime 14 giornate di campionato, uniti al quartultimo posto in classifica, hanno suggerito l'esonero. Occhiuzzi, che ha superato la concorrenza dell'ex Catania e Potenza Giuseppe Raffaele, partirà dal derby casalingo con il brindisi penultimo, partita che vale oro in termini di classifica e che può permettere anche il riscatto del K.O. patito in Coppa Italia a inizio ottobre. Non mancano le imprese nel curriculum del nuovo allenatore, protagonista dell'insperata salvezza del Cosenza nella Serie B 2019-20 e l'anno scorso alla guida dell'Olbia, club portato alla permanenza nella categoria in C con 41 punti in 38 giornate. Si ripartirà dalla difesa a tre ed alcuni concetti cari anche a Villa, pressing alto, calcio verticale e velocità di manovra, fattori che avevano inciso nel 3-1 sul Crotone e nel pari di Avellino, risultati arrivati contro Big del Girone. Con il brindisi rientrerà Monteagudo in difesa dopo la scolifica, mentre non ci sarà per lo stop del giudice sportivo Jakubiv. Altra priorità sarà il recupero degli infortunati su tutti i gavazzi fornito di Marco e Izzillo, le cui assenze con il Monterosi si erano fatte sentire a zerare il recente passato, tirare una linea e cercare di risalire posizioni. L'era Occhiuzzi alla Virtus Franca Villa prende il via così.